Il rilancio dell'edilizia può essere una carta da spendere immediatamente per il rilancio anche dell'occupazione. Faremo di tutto nei prossimi mesi, cercheremo di approvare una nuova legge urbanistica regionale, la più semplificata possibile, ci stiamo lavorando in queste ore, stiamo cercando di sburocratizzare tutti i passaggi amministrativi che riguardano la regione, a cominciare dagli uffici del genio civile che dipendono da noi. Già a Napoli abbiamo eliminato il 70% delle pratiche che venivano richieste agli imprenditori, continueremo così per dare respiro al comparto.